Ciao, io sono Giampaolo Beretta. Nel video di oggi ti mostrerò come utilizzare un foglio di calcolo realizzato da me per determinare la posizione dei waypoints da caricare poi in lici per realizzare una missione con scopi fotogrammetrici. Verrà pianificata una missione con forma, per così dire, serpentina, dove per l'appunto i waypoints rappresentano i punti di svolta dell'APR su tale percorso. Vi mostrerò come utilizzare e come impostare i vari parametri all'interno del foglio Excel, come caricarli successivamente all'interno di Mission Hub, che è l'applicativo web di Lici, e vi mostrerò anche come pianificare più missioni facendo uso di Google Earth. Bene, adesso quindi vediamo come è fatto il foglio Excel e successivamente passo dopo passo realizzeremo le missioni come appena descritto. Bene, questo è il foglio Excel e sostanzialmente all'interno del foglio Excel io sono andato a mettere con un colore azzurro i valori che sono di input, ossia i valori che saranno necessari per determinare i vari parametri della missione di volo. In giallo invece, come ad esempio abbiamo qui nel secondo foglio, ci sono dei parametri che rappresentano praticamente dei valori che vanno presi in considerazione per dedurre altri valori di input, come qui ad esempio dove viene determinata la quota di volo massima e il ground sample distance, sostanzialmente in base al GSD richiesto viene determinata un'altezza massima di volo e viene evidenziata di colore giallo, quindi come si vede il dato richiesto è in azzurro, viene determinato quello giallo e successivamente sempre in una cella azzurra viene richiesto un valore di input che è ancora una volta l'altezza, però questa volta è un'altezza che vado ad impostare io, tenendo presente il valore riportato nella cella gialla. Quello che si ottiene sono le celle arancioni, ossia dei valori di interesse risultanti dal calcolo, come in questo caso quello che viene proposto è il GSD reale. Chiaramente io avendo impostato un'altezza dal suolo inferiore rispetto a quella massima che era stata calcolata in base al GSD richiesto, vado ad ottenere un GSD più basso, altezza inferiore GSD più basso. Le celle che sono riportate in bianco invece contengono formule che vengono utilizzate successivamente all'interno del foglio Excel per determinare gli altri valori. Per quanto riguarda invece la forma della rotta che andremo a determinare, c'è da tenere presente che è costituita sempre inizialmente da 5 waypoints, ossia inizialmente vanno introdotti 5 waypoints, il primo è il punto di decollo, qui sotto vi faccio vedere con un esempio com'è. Il primo è il punto di decollo, poi il secondo, il terzo, il quarto e il quinto definiscono l'area del rilievo. La particolarità che deve avere quest'area è che deve essere quadrilatera, quindi deve avere 4 lati, quindi ripeto il primo waypoint è sempre il punto di decollo, i 4 successivi per un totale di 5 vanno a definire l'area di rilievo. Se ci fossero anche waypoint aggiuntivi, questi verrebbero trascurati. Quindi noti queste prime indicazioni, che sono praticamente le basi di funzionamento di input del foglio di calcolo, vediamo adesso quali input bisogna dare. Qui innanzitutto viene richiesto se si vuole utilizzare come fonte dei dati il file csv esportato da Mission Hub e quindi si spunta la prima selezione, oppure spuntando la seconda se si vogliono utilizzare delle coordinate inserite manualmente e sono riportate qua sotto. Come si vede alternativamente scegliendo una o l'altra, vengono evidenziate con il colore relativo alle celle di input delle celle diverse. Qui sopra ho già inserito i dati esportati da Mission Hub per una missione di volo, che è questa. Scegliendo la seconda opzione invece ho altri dati che sono coordinate geografiche in latitudine e longitudine relativi a una missione diversa. Quindi qualora io scegliessi la prima, queste possono anche essere omesse. Al contrario, se io scelgo la seconda, posso mettere tutte le prime celle, perché chiaramente vengono considerate solo le celle di input. Devo scegliere quale input. Vediamo adesso come generare questo file csv. Andiamo quindi in Mission Hub, ci richiamo nella zona di interesse del rilievo, ad esempio questa, e cominciamo a discernire i vari waypoints. Allora, supponiamo che qui vi sia il decollo, quindi primo waypoint decollo. I successivi 4 definiscono l'area di rilievo. 1, 2, 3, 4. Chiaramente l'area di rilievo si chiuderà sul lato 5, 2. Quindi questa è la mia area del rilievo. Attenzione, adesso io ho inserito dei waypoints che rappresentano per Mission Hub una rotta, cioè vanno a definire una rotta dell'APR. In realtà a me questo serve solo per generare un file csv di input, ossia è come se io avessi di fatto fornito un punto di decollo e un'area. Capirete ora cosa intendo. Qui comunque non serve impostare altezze, non serve impostare velocità, non serve impostare nulla. Ci servono solo le coordinate di ogni singolo waypoint. Pertanto esportiamo in csv, dicemission.csv, salviamo e apriamo il file. Ecco qua. Questi li possiamo semplicemente copiare con CTRL-C ed incollare nelle celle azzurre, CTRL-V. Ed ecco che i valori si sono aggiornati. Attenzione alla notazione utilizzata da LICI, ossia la virgola è il separatore tra i vari campi, appunto perché è un file csv. Il punto è il separatore decimale. Ecco qua rappresentata la rotta che abbiamo appena tracciato in Mission Hub. Ora può essere che in realtà non presenti la stessa scala, la stessa forma, può essere che sia un po' strecciata, questo è dovuto al fatto che Excel mantiene l'area del grafico esterna e va a scalare gli assi in modo tale da adattare il grafico all'area esterna. Qui ora si vede che ho 50 sull'asse delle ordinate, più o meno hanno la stessa lunghezza, quindi più o meno quest'area è uguale a quella che ho tracciato in Mission Hub. Il punto di decollo viene sempre messo nelle coordinate 00. L'area è di circa 67.025 m2, 6,7 ettari. Pertanto questa area in rosso è l'area del rilievo. Qui vedete già delle strisciate, da dove derivano? Derivano dai calcoli effettuati nel secondo foglio. Qui adesso andremo a definire qual è il modello dell'APR utilizzato o dell'ottica utilizzata. L'ICI come sappiamo è compatibile con alcuni modelli della DJI e li trovate elencati qua dentro. I primi fino al Mavic Air sono degli APR e hanno sostanzialmente la camera solidale con l'APR. Pertanto quando andiamo a definire il modello dell'APR di fatto definiamo anche la caratteristica dell'ottica ad esso collegata. I valori successivi invece, le Zenmuse, rappresentano delle camere che possono equipaggiare l'Inspire 1 e l'Inspire 2. L'Inspire 1 dalla X3 all'X5R, l'Inspire 2 dall'X4S alla X7. Alcune di queste hanno anche l'ottica intercambiabile, cosa che non avviene nella prima parte, ma ad esempio se andiamo a selezionare un X5R, vediamo che viene evidenziato un campo aggiuntivo nel quale va inserita la focale reale. Gli obiettivi sono dotati di una focale reale, si legge il valore della focale impostata, alcune hanno anche la focale variabile e si mette qui il relativo valore. Stessa cosa ad esempio per la X7, anche qui come si vede viene proposto un ulteriore valore di input. Se invece abbiamo il Mavic 2 Zoom, viene evidenziata la cella sopra dove va inserita la lunghezza focale equivalente a 35 mm. Se non sbaglio il Mavic 2 zoom a una focale variabile, sempre in termini equivalenti a 35 mm, tra 24 e 48, quindi questo valore dovrà essere compreso tra 24 e 48. Quando si parla invece di obiettivi con focale reale a ottimi intercambiabili, ve ne sono una moltitudine, nel senso che ad esempio sulla ZMUSE X5R si possono montare 4 o 5 ottiche differenti, alcune con la focale fissa, altre con la focale variabile. I valori che vanno inseriti qui chiaramente saranno appunto quelli riportati sugli obiettivi o impostati sulla focale variabile. i vari Phantom ce ne sono alcuni che hanno lo stesso tipo di ottica, pur essendo modelli diversi, però per ogni APR possiamo andare ad impostare anche formati dell'immagine diversa, ad esempio il Phantom 4, l'Advance del Pro e il Pro V2, ha un formato nativo di 3 mezzi, ma si può impostare anche il 4 terzi o il 16 noni. Alcuni hanno solo il 4 terzi e il 16 noni, la ZMUSE 7 sempre 3 mezzi, 4 terzi e 16 noni. Quindi a seconda di come si imposta il formato immagine, si può scegliere il modello di APR e formato immagine. A volte questo visto dipende anche dal tipo di file immagine che viene prodotto, se è un JPEG o JPEG più RAW, nel senso che il RAW fa sì che non sempre si abbia a disposizione il formato nativo del sensore. Quindi qui si può andare a scegliere il formato più corretto impostato, a seconda delle esigenze di ciascuno. Chiaramente questo si ripercuote anche sull'area che viene coperta a terra dall'immagine, ossia il footprint. Adesso lo vedremo. Supponiamo ad esempio di lavorare con un Phantom 4 Pro, è quello che utilizzo io, con formato dell'immagine 3 mezzi. Vogliamo ad esempio avere come dato di input un GSD di 3 cm pixel, possiamo volare al massimo a 109 metri di altezza. Io suppongo di volare a 60 metri e come dicevo prima ho un GSD reale di 1,6 cm pixel. In base al formato immagine e al GSD reale ho una larghezza della foto a terra di 90 metri per 60 metri. Se io imposto un 4 terzi ho un 80 per 60 metri, se imposto un 16 noni ho un 90 per 51 metri. Come abbiamo visto il 3 mezzi è quello che copre un'area maggiore. Qui bisogna prestare un attimo attenzione a quando si lavora con i valori limite. Ad esempio se io imposto 109 metri, qui ho ancora 3 cm pixel, tuttavia quello che ho fatto io all'interno delle formule è far sì che i valori in giallo, ossia quelli che ci permettono di dedurre i successivi valori di input. Questi valori in giallo sono arrotondati per difetto, sono arrotondati per difetto perché io non voglio che vengano mai superati, piuttosto sto un po' più basso in modo tale che il valore che viene imputato successivamente dia comunque garanzia di rispetto del valore impostato inizialmente di 3 cm pixel. Questo toglie anche alcuni problemi relativi degli arrotondamenti, altrimenti capitava che ad esempio questo 109 metri magari era un 109,1, io impostavo 109,2 però mi fa vedere sempre 109 entrambe le volte e risultava ad esempio che il GSD reale era superiore a quello richiesto e quindi la cella di verifica dava un risultato negativo. Arrotondando per difetto mi porto sempre sul lato della sicurezza. Supponiamo di mantenere ancora i 60 metri ed ecco qui che ho il mio footprint. Il riferimento per l'altezza di volo, allora io ho impostato 60 metri, chiaramente per come ragionano gli APR, per come ragionano Mission Hub, questa altezza viene sempre riferita al punto di decollo. Infatti l'APR all'interno ha un barometro e calcolando le differenze di pressione riesce a determinarsi le differenze di quota e quindi l'altezza rispetto al punto di decollo. Chiaramente quando si compiono missioni, si svolgono missioni su terreni inclinati, si può volere ad esempio far sì che questi 60 metri siano sempre mantenuti durante lo svolgimento della missione. Questo consente di farlo Mission Hub perché nelle impostazioni posso dire di utilizzare un modello di elevazione online che è poi il DTM di Google, che verrà utilizzato solo ed esclusivamente sui waypoints, cioè non all'interno delle strisciate, ma solo sui waypoints. Questo deve essere tenuto sempre in considerazione perché di fatto se io imposto 60 metri di altezza all'inizio di una strisciata, 60 metri di altezza alla fine della strisciata rispetto al terreno sempre, però in mezzo magari c'è un rilievo che mi supera questi 60 metri, significa che io ci vado a sbattere contro. Oppure se c'è un avvallamento, significa che io quando ci arrivo sopra, magari rispetto al terreno sono 80, 90, 100 metri e questo mi va a variare il GSD. oppure chiaramente anche la sovrapposizione tra gli scatti, è tutta una questione geometrica, quindi da tenere in considerazione che una volta tracciata la rotta, se io ho bisogno di mantenere un'altezza impostata su punti caratteristici, lì è meglio mettere un waypoint, oppure se io del caso spezzare un'area in più missioni, magari spezzandola proprio ad esempio su un fondo valle o su una cresta di un pendio. Comunque, questo valore di 60 metri può essere riferito al punto di decollo, oppure rispetto al terreno. La missione che verrà generata, in questo caso, impostando rispetto al terreno, verrà successivamente importata all'interno di Mission Hub e Mission Hub ne terrà conto. Questi valori, vedremo successivamente, si sdoppieranno, uno sarà l'altezza relativa al punto di decollo e l'altra rispetto al terreno che sta sotto il waypoint, lo vedremo dopo. Adesso va determinata la velocità delle APR e la distanza tra gli scatti. Tutto parte dalla sovrapposizione di percentuale, dalla percentuale di sovrapposizione longitudinale è richiesta. Supponiamo ad esempio di avere un 80% di sovrapposizione longitudinale tra gli scatti, di impostare un 2 secondi, un 3 secondi, un 5 secondi, quel che si ritiene di intervallo tra gli scatti, avrò una distanza quindi di 12 metri tra due scatti consecutivi e potrò impostare al massimo una velocità di 5,9 metri al secondo. Se ad esempio scattassi in RAW e potessi quindi non scendere sotto i 5 secondi, dovrei muovermi a 2,3 metri al secondo al massimo. Se impostassi 3 secondi, massimo 3,9 metri al secondo. Supponiamo di scattare in JPEG 2 secondi, posso muovermi al massimo 5,9 metri al secondo, imposto 5, quindi la distanza tra due scatti consecutivi diventa 10 metri e chiaramente la percentuale di sovrapposizione longitudinale passa all'83,3%, quindi è verificato, ossia la percentuale che io ho impostato all'inizio viene superata, perché ho impostato una velocità più bassa di quella massima impostabile. Poi come voglio che vengano scattate le fotografie? Con vista nadirale imposto meno 90, inclinata di 45 gradi verso il basso meno 45, io voglio una vista nadirale meno 90. gli scatti poi possono anche decidere se vengono eseguiti solo lungo le strisciate, quindi con l'intervallo dato di 2 secondi lungo la strisciata, oppure se voglio che vengano eseguiti anche in corrispondenza ad ogni singolo waypoint. Ora con un intervallo di 2 secondi non ci sono problemi, nel senso che l'APR quando giunge in prossimità del waypoint rallenta, si ferma, gira e poi riparte. Chiaramente scattando ogni 2 secondi significa che mano a mano che ruota su se stesso per cambiare direzione fa più scatti. Se io invece avessi intervalli lunghi, allora potrebbe essere che magari uno scatto è qui e quello successivo magari è a metà della strisciata dopo, o meglio del collegamento tra le strisciate. Se io imposto lo scatto anche in corrispondenza del waypoint, quando arriva lì prima di girarsi scatta, pertanto posso dire di fare uno scatto anche in corrispondenza delle svolte. Nella sezione successiva viene determinata, in base alla percentuale di sovrapposizione trasversale degli scatti, viene determinata la distanza tra le strisciate. Se io voglio una percentuale di sovrapposizione trasversale massima dell'80%, o meglio minima dell'80%, posso avere una distanza massima tra le strisciate di 17,9 metri. Io imposto 17, quindi ho una percentuale di sovrapposizione trasversale reale dell'81,1. Chiaramente supera l'80, quindi la verifica è soddisfatta. Qui in sostanza siamo andati a definire tutto quello che ci serve per calcolare la posizione dei waypoints in base all'ottica della PR, in base all'intervallo tra gli scatti, in base al GSD richiesto. Pertanto, una volta impostati tutti questi valori, ci viene calcolata la rotta da caricare in LICI. Questo basta salvarlo in formato CSV e importarlo all'interno di Mission Hub. Quindi, la prima cosa da fare è salvare in formato XLSM. Successivamente, questo foglio, facendo un salva con nome, si esporta in formato CSV e la chiamiamo rotta. CSV. Ci dà un paio di avvertimenti, perché ci dice, occhio che se salvi col CSV, alla fine ti sei salvato solo questo foglio, gli altri non li hai più, però noi li abbiamo già salvati anche nell'altro formato proprietario XLSM. Adesso andiamo in Mission Hub, duplichiamo questa scheda e carichiamo la missione. Importiamo il file CSV. Rotta CSV. Importiamo. Eccola qua. Quindi, come si vede, quello che è successo è che è stata generata la rotta, le strisciate sono state poste tutte alla distanza che abbiamo impostato all'interno del foglio Excel, la quale era di 17 metri. Qui si vede che in realtà hanno valori diversi, c'è un 17,1, 17,2. Questo è dovuto al fatto che in primo luogo i waypoints sono a quote diverse e quindi la misura è già in inclinato. Inoltre, come si vede, non vi è un angolo retto tra le spezzate che compongono la rotta e questo fa sì che chiaramente la distanza sia maggiore, o meglio, la distanza tra i due waypoints è maggiore rispetto alla distanza tra le strisciate parallele. C'è subito da notare una cosa. Quando si va a definire l'area di rilievo, di fatto essa, se gli angoli sono convessi, va a generare una rotta che è sempre contenuta all'interno dell'area di rilievo. Questa è un'impostazione che ho voluto dare io, nel senso che ci sono dei pianificatori di volo che fanno sì che ad esempio alcuni waypoints siano all'esterno. Io voglio che sia tutta contenuta all'interno, piuttosto allargate un po' l'area di rilievo iniziale in modo tale da avere del margine. Questo perché per me, se vado a definire l'area di rilievo, per me è diciamo un vincolo, io voglio che l'APR viaggi lì dentro. Piuttosto se ho spazio mi allargo e so che i waypoints arriveranno fino a quel limite lì. Quando dei pianificatori fanno sì che dei waypoints escano, io di fatto in fase di input, non so se ci saranno dei waypoints esterni. Lo so solo una volta generata la missione, come qui ad esempio, potrei averne uno all'esterno e magari è proprio quello che mi dà problemi perché mi avvicino forse troppo a degli ostacoli, non so. A priori io voglio sapere che sta tutto all'interno, piuttosto se ne ho facoltà mi allargo all'inizio quando vado a tracciare la missione, o meglio l'area iniziale. Comunque questa è la nostra missione di volo per scopo fotogrammetrico. Come si vede i valori si sono sdoppiati, una volta importata la missione bisogna aspettare un attimo che si aggiornino perché l'altezza di ogni singolo waypoint deve essere ricalcolata basandosi sul DTM di Google. Il primo valore indica l'altezza rispetto al terreno, il secondo è l'altezza rispetto al punto di decollo. Qui il terreno va in discesa, quindi qui come vediamo 60 rispetto al terreno, 27,5 rispetto al punto di decollo. Qua dentro di fatto alcune cose sono già impostate. Se vado sul primo waypoint, qui cosa troviamo? Troviamo solo spuntato il riferimento rispetto al terreno, è una velocità di 18 km orari. Questi 18 km orari, se andiamo a guardarci dove l'avevamo impostata, era di fatto i 5 metri al secondo. 18 km orari. In realtà i 18 km orari a me servivano lungo le strisciate, ho voluto comunque mantenere anche tra il primo e il secondo waypoint la stessa velocità. Questo perché altrimenti viene considerata la velocità che ho nei settaggi, questa crazy speed, che però io questa ce l'ho impostata all'interno di Mission Hub, che potrebbe essere magari troppo elevata oppure troppo bassa. Di fatto io quando pianifico la missione non la conosco, però so che se io lungo le strisciate definiscono a certa velocità, nulla toglie che io questa ce l'abbia anche tra il primo e il secondo waypoint. Cosicché quando arrivo in campo, io ho già in mente, ok, 5 metri al secondo, 18 km orari, va bene, ovunque, io la penso così ce l'ho in mente. Altrimenti tra l'1 e il 2 è sconosciuta, ce l'ho nei settaggi, ma devo andarmela a guardare e ricordarmela. Passiamo al secondo waypoint. Sul secondo waypoint cosa fa? Come prima cosa, tilta la camera verso il basso, visione nadirale come era stato impostato all'inizio. meno 90, eccolo qua. E successivamente siccome ho detto di scattare una foto su ogni waypoint, scatto la foto, take photo. Passo al terzo waypoint, qui scatta la foto. Sul quarto, idem, scatto foto. Sul quinto, scatto foto. Così fino al termine, però quando arriva sull'ultimo, scatta la foto e tilta la camera di nuovo riponendola in orizzontale. Qui in realtà potevo anche mantenere ancora almeno 90, nel senso che una volta finita la missione, la PR si ferma, io so che devo portare la camera in orizzontale o con il pitch che mi interessa, ho preferito riportarla a zero per una questione anche qui di sicurezza, nel senso che mantenendola ad esempio rivolta verso il basso, qualora io ad esempio mi riporti nel punto di decollo e atterri, magari proprio per terra c'è qualcosa che sporge e io magari vado a graffiare l'obiettivo. Qui sono sicuro che l'obiettivo, quando la riporto al punto di decollo, è in orizzontale. Qua dentro poi nei settaggi volendo posso andare a cambiare anche il tipo di curve, io preferisco lavorare con le curve diritte anche perché così vengono meglio interpretate anche i comandi o meglio le azioni su ogni singolo waypoint, pertanto io lascerei questa impostazione. Voglio un attimo duplicare di nuovo e farvi vedere, sempre importando lo stesso foglio, cosa sarebbe possibile anche fare, nel senso che qui come abbiamo visto la prua dell'APR è sempre rivolta verso il waypoint successivo e di fatto questo auto TNV significa proprio to next waypoint, però posso anche impostare un'inclinazione o meglio un heading definito per ogni singolo waypoint, waypoint defined, quest'ultima opzione. Ora vediamo a questo cosa può servire, può servire ad esempio qualora io avessi un pendio ad esempio che sale, la linea di massima pendenza supponiamo che sia perpendicolare alle strisciate e magari io voglio percorrere la rotta mantenendo sempre la camera perpendicolare al versante, quindi bisognerà che la prua sia rivolta lungo la linea di massima pendenza e la camera inclinata in modo tale che sia perpendicolare al versante, questo posso determinarlo ad esempio qualora io avessi delle curve di livello ad esempio tratte da un database provinciale o regionale, posso avere una stima dell'inclinazione del versante e quindi anche della camera. Tuttavia io selezionando tutti i waypoints tranne il primo, selezionando il primo e poi con control seleziono il secondo, li seleziono tutti con select all e poi sempre con control deseleziono il primo, come vedete li ho selezionati tutti. Posso andare a definire leading, leading chiaramente qui come si vede non me lo lascio modificare perché ho 2 next waypoint nei settaggi impostato, devo mettere custom, tutti si sono riportati verso l'alto. Ora in realtà se volessi fare le cose proprio di fino potrei tornare sempre to next waypoint e segnarmi l'angolo leading del primo waypoint che sono 123 gradi. Questi 123 gradi è praticamente la direzione della prua, quindi io so che se vado a togliere 90 mi pongo perpendicolare alla strisciata. torno di nuovo sui settaggi, custom, close, control sul primo, cioè clic sul primo, control, clic sul secondo, select all, control e deseleziono il primo, qui heading 123-9033 gradi. apply, ecco qua, si sono girati tutti in modo tale da porre la prua lungo la linea di massima pendenza. se io inizialmente avessi impostato ad esempio qui l'angolo calcolato con la pendenza del versante, ad esempio meno 30, mi ritroverei già per ogni waypoint il meno 30. penso che la modifica, vediamo un attimo se me la lascia fare anche qui, credo di sì, sulle azioni, tilto ad esempio a meno 30, apply, esatto, meno 30. quindi come si vede, ho imposto tutto all'interno del foglio Excel, tranne chiaramente la direzione della prua, oppure posso farlo qui. torniamo sulla missione iniziale, ecco questa è la missione che io poi posso andare ad esportare in KML e poi aprire ad esempio in Google Earth, eccola qua, questa è la missione di volo che come si vede va a seguire il terreno. allora, adesso voglio far vedere quello a cui accennavo prima, qualora io volessi ad esempio andare a realizzare due missioni, come posso fare? allora, posso o andare a tracciare chiaramente le missioni all'interno del mission hub, una potrebbe essere questa, però non mi permette di farne una nuova, nel senso che se io qui ad esempio riparto con un waypoint pensando che sia l'uno, come vedete invece me ne aggiunge, per mission hub vado a continuare la missione precedente. io vorrei avere la possibilità di creare due o più missioni, verificando anche che ci sia una sovrapposizione tra le due. questo perché magari sto operando in fase emergenziale, voglio ad esempio rilevare, supponiamo, un intero paese, ho una flotta di droni con più piloti, tutti utilizzano lici e ad ognuno io do una missione. voglio però che vi sia una minima sovrapposizione tra le due aree, in modo tale poi da andare a comporre ad esempio due ortofoto che si sovrappongono, anche con una curatezza diciamo scarsa, in modo tale da capire ad esempio quali sono le vie di accesso e almeno in prima battuta fare una valutazione dei danni. Tra l'altro questa idea non è proprio campata per aria, nel senso che una decina di giorni fa mi sono confrontato con una collega la quale mi ha proprio riportato che la loro esigenza era quella di avere a disposizione un pianificatore di missioni che permettesse innanzitutto di creare delle missioni su aree sovrapposte, che in parte si sovrappongono, ma soprattutto un pianificatore di volo che venga anche utilizzato dai piloti, perché a quanto sembra nelle simulazioni che hanno fatto in campo per la maggiore andava proprio l'utilizzo di lici, il quale sappiamo assieme a Mission Hub non è un'applicazione volta all'uso in fotogrammetria, tuttavia la sua potenza è quella di avere la possibilità di importare dei file CSV, quindi dei file che possono essere salvati attraverso dei fogli di calcolo e quando si parla di fogli di calcolo si apre un mondo, lì si può programmare una missione di volo per scopi fotogrammetrici e chiedere poi a lici di eseguirla, rimane il chiodo di come andare a determinare queste aree sovrapponibili, lo facciamo questo con Google Earth, Google Earth come sappiamo è gratuito, alla portata di tutti, nel senso che si può facilmente imparare ad utilizzare, allora cosa potrei fare qui dentro? Selezioniamo ad esempio luoghi temporanei e lasciamo deselezionata, o meglio questa la possiamo anche cancellare la missione che abbiamo fatto prima, che crea solo confusione, nei luoghi temporanei o in una sottocartella decidiamo noi, magari ce la realizziamo anche, ce la creiamo, cartella, missioni, ok, qua dentro dobbiamo andare a tracciare dei poligoni, con, qua sopra c'è l'icona, aggiungi poligono, vediamo come sono fatti, allora, dovranno essere dei poligoni che per essere digeriti dal foglio Excel dovranno avere 5 waypoints, però attenzione, perché quando io importerò un poligono di 4 lati e quindi di 4 vertici all'interno di Mission Hub, di fatto lui interpreterà 5 waypoints, perché è come se il poligono fosse questo, ossia il primo e l'ultimo waypoint coincideranno, perché di fatto sono il punto iniziale e il punto finale del poligono che hanno le stesse coordinate geografiche, di questo ne tengo conto all'interno di Google Earth, però diciamo che non migrava sul lavoro, perché io di fatto quello che vado a fare è semplicemente tracciare un quadrilatero, che io chiamo ad esempio M1, perché questo è relativo ad esempio alla missione 1, posso dare un colore rosso e voglio ad esempio far vedere solo il perimetro, posso anche ingrossarlo, ecco qua, questa è la mia area nella quale andrò a generare la prima missione di volo, do ok, aggiungo un secondo poligono, ad esempio per rilevare, non so, qui c'è il fondo valle, voglio rilevare questa zona in basso, facciamo un'area un po' più complicata per così dire, missione M2, stile, ad esempio questa volta diamo il blu, diamo una certa sovrapposizione tra i due poligoni, qui non dobbiamo fare certo i chirurghi, magari facciamo una sovrapposizione più o meno larga uguale, ecco qua, abbiamo le due aree, quindi a questo punto dobbiamo semplicemente importare queste aree all'interno di Mission Hub, le andiamo a salvare col tasto destro, salva luogo con nome, lo salviamo in KML, salviamo, la seconda stessa cosa, tasto destro, salva luogo con nome, M2.KML, salviamo, adesso in Mission Hub, duplichiamo di nuovo, così ce ne apre una nuova finestra, andiamo ad importare il file KML appena generato, ecco qui, questa è la nostra area, e qua sotto, come si vede, io ho waypoint 1, 2, 3, 4, e il 5, non si vede perché è sotto l'1, a questo punto io posso semplicemente andare a prendermi il waypoint 1 e già dire, guardate il mio punto di decollo qua me lo vedo bene qui vicino, esporto in CSW, chiamo, ad esempio, M1, emissione 1, lo apro, copio, incollo, e adesso definisco i parametri, qui, ho il punto di decollo in 1, mi va sul waypoint 2, e le strisciate le fa in questo senso, ma posso anche volere ad esempio le strisciate nell'altro senso, quindi, cosa che non vi ho spiegato prima, qui la faccio vedere, ad esempio, voglio che le strisciate vanno da 2 a 5, quindi cerco qua dentro l'opzione, da 2 a 5, oppure, potrei anche volere ad esempio fare le strisciate in ordine inverso, quindi la prima strisciata da 5 a 2, quindi scelgo questa, come vedete, la rotta viene adattata, se io ad esempio facessi la strisciatra, la prima tra 2 e 3, e poi volessi percorrere, o meglio invertire la rotta, vado da 3 a 2, qui potete giocare un po' con le varie opzioni, comunque, teniamo ad esempio da 2 a 5, qui, siccome supponiamo sempre di operare in fase emergenziale, supponiamo ad esempio, la precisione ci interessa sì e no, comunque vediamo che già l'altezza è a 109 metri, supponiamo di volare addirittura a 100 metri, copro un'area a terra di 150 per 100 metri, rispetto al terreno, l'altezza, perché voglio che segua il terreno, voglio comunque una percentuale di sovrapposizione di 80%, scatti, ad esempio, se utilizziamo 2 secondi, già viaggiamo a 9,9 metri al secondo, che già ha una bella velocità, comunque, supponiamo di impostarla 9,5, 9, 9 metri al secondo, abbiamo 82% di sovrapposizione e vista nadirale, meno 90, foto anche in corrispondenza delle svolte, poi distanza tra le strisciate parallele dell'80%, posso avere una distanza massima tra le strisciate di 29,9, io imposto 29 e ho una sovrapposizione trasversale dell'80,7. A questo punto, questa è la mia rotta, che vado a salvare in csv e la chiamo rotta m1 per distinguere da quelle che abbiamo utilizzato in import. Salviamo, ok ed ecco che adesso chiudiamo magari le finestre precedenti, anche questa non ci interessa più, duplichiamo questa e andiamo ad importare il csv appena creato, cioè la missione che di fatto dovrò eseguire. ecco qua. Qui attendiamo, come vedete adesso fa vedere tutto a 100 metri, poi si aggiorna. Adesso si sono aggiornati. Questa è la missione di volo che andrò ad eseguire, che io posso esportare sempre in KML. M1 e salviamo e apriamo in Google Earth. Ecco qua la mia missione. come si vede si sovrappone al poligono precedente, però come dicevo prima ne resta fuori un pezzettino perché di fatto la strisciata successiva sarebbe caduta fuori dal poligono e quello che dicevo prima piuttosto tenetevi un po' di franco, però io la missione che voglio programmare deve stare tutta all'interno. quindi questo è questa è la prima missione. Così per riepilogo proviamo a programmare la seconda missione. Quindi io ho M1 e M2 KML che mi ero esportato a questo punto duplichiamo di nuovo vado ad importare il file KML chiamato M2. Ecco qua adesso è successa una cosa diversa rispetto a prima ho il 5 sopra e l'1 sta immediatamente sotto io voglio spostare l'1 ma posso anche lasciarlo lì vi faccio vedere di fatto io il punto di decollo non serve che lo definisca qui lo posso fare anche dopo una volta che avrò ho rimportato la missione quello che ho fatto prima se ricordate era prendere il punto 1 e trascinarlo fuori adesso vi faccio vedere che posso farlo anche dopo quindi questa me la esporto come CSV e lo chiamo M1 CSV che andiamo o meglio M2 scusate CSV lo apriamo questi valori li copiamo e li incolliamo nella zona di input ecco qua i dati per quanto riguarda l'impostazione delle strisciate e degli scatti li teniamo come prima e andiamo ad esportare a salvare in file il file CSV che chiamiamo rotta M2 ok duplichiamo e andiamo ad importare il file rotta M2 CSV ecco qua aspettiamo un momento che si aggiornino le altezze fatto allora qui tra l'altro ho invertito nel senso che prima avevo le strisciate in questo senso qui le ho nell'altro senso qua sotto questo è il 2 questo è il 2 l'1 basta tornare indietro e qui sotto il 3 quindi di fatto io se sposto leggermente il 3 vedrò che c'è l'1 sotto il 3 poi lo posso rimettere dove era prima avevo impostato 29 metri ecco qua tra le strisciate quindi come vedete non c'è nessun problema se io non definisco inizialmente il punto di decollo perché di fatto lo posso definire anche in questo secondo step francamente io preferisco definirlo all'inizio però non c'è nessun problema se vi dimenticate volevo farvi capire questo potete farlo anche dopo questa quindi è la seconda missione che io vado ad esportare o meglio qui posso già eseguire la salvo e dopo la ricarico all'interno dell'applicazione lici comunque per visualizzarla in KML chiamo M2 salvo e apro magari do colori diversi ai percorsi la prima la facciamo rossa anche il prolungamento a terra del percorso la seconda la possiamo fare blu ecco qua potevo scegliere anche questa missione di svolgerla con la stessa direzione delle strisciate rispetto alla prima queste sono questioni diciamo che si possono pianificare lì sul posto potevo decidere di partire anche da un altro punto semplicemente giocando con le prime opzioni qui in basso tuttavia era solo per far vedere la diversità dei risultati ora quello che ho fatto vedere adesso per realizzare le due missioni in realtà sembra laborioso e complicato perché ho dovuto ripetere due volte gli stessi procedimenti cioè lo stesso procedimento tuttavia immaginate ad esempio di avere a disposizione più piloti ognuno che sappia utilizzare diciamo i parametri per impostare la sua missione quindi separatamente le va a realizzare pertanto già diventa meno macchinoso perché viene fatto da più persone distintamente oppure se ad esempio se ci fosse una centrale operativa una centrale di controllo questo non fa altro che definire le varie zone e poi così come catena di montaggio per passate nel termine va a realizzare le varie emissioni che può diventare magari un po' noioso tuttavia una volta presa la pratica si riesce a fare anche abbastanza velocemente questo quindi è tutto quello che c'è da dire relativamente alla programmazione della missione e all'esportazione poi di tale missione per poterla caricare all'interno di Mission Hub e quindi indici un'ultima cosa che mi rimane da dirvi è quanto riportato nella scheda riferimenti nella quale si può leggere come poter ottenere questo foglio Excel con delle limitazioni o senza nessuna limitazione infatti questa volta ho deciso che il foglio di calcolo che metterò a disposizione per il download sarà in versione limitata nel senso che ci sarà una limitazione sull'altezza di volo e una limitazione nel numero di waypoints esportabili ci sarà una limitazione su 5 waypoints quindi in sostanza sono due strisciate più il punto di decollo e la limitazione sull'altezza sarà di 40 metri con quella versione potrete effettuare delle prove e vedere se tutto funziona e se è una risorsa che può essere utile per il vostro lavoro successivamente vi chiedo di effettuare una donazione se questa risorsa appunto fa il caso vostro e ho deciso di scaglionare le limitazioni in base alle donazioni in particolare fino a 10 euro ci sarà una limitazione fino a 11 waypoints nessuna limitazione invece con riguardo all'altezza di volo 11 waypoints corrispondono sostanzialmente a 5 strisciate più il punto di decollo poi da 10 a 15 euro 21 waypoints da 15 a 20 31 waypoints oltre i 20 euro invece non ci sarà nessuna limitazione pertanto come vedete passando dai 10 ai 20 euro si passa dalla limitazione massima a nessuna limitazione la donazione può essere fatta utilizzando o il tasto di donazione qui sotto o il QR code che rimanderanno al sito paypal e una volta ricevuta la donazione lo stesso indirizzo mail dalla quale mi è pervenuta io a ruota invierò il foglio di calcolo corrispondente il foglio di calcolo sarà suscettibile anche di modifiche e implementazioni nel senso che ho già in mente di implementare le funzioni che andranno a calcolare e a verificare il tascinamento sui fotogrammi quindi eventualmente una volta ricevuta la donazione io terrò presente l'indirizzo mail dalla quale mi è pervenuta per poi inviare poi anche queste successive release di questo foglio di calcolo bene detto questo quindi vi ringrazio vi lascio però prima i miei riferimenti online come al solito mi ritrovate sul mio sito internet che è www.giampaoloberetta.it lì avete la possibilità di iscrivervi al mio canale telegram ing giampaoloberetta sempre su telegram potete comunicare con me cercando l'account giampaoloberetta e vi invito anche a visionare i miei altri video su youtube al canale giampaoloberetta quindi vi ringrazio alla prossima ciao